Prosegue a Cosenza l'emergenza rifiuti e i cittadini sono stanchi di una situazione che sta provocando disagi e problemi oltre che possibili conseguenze sanitarie. La raccolta dei rifiuti nell'area urbana non funziona già da giorni e vicino a palazzi e abitazioni in prossimità di marciapiede è frequente ritrovare cumuli di rifiuti che in alcuni casi ostacolano anche l'ingresso negli stessi palazzi. I cittadini sono stanchi e nelle ultime ore hanno palesato il loro disappunto. Soprattutto nel centro storico non sono mancate le proteste e la spazzatura è stata sparsa in mezzo alla strada bloccando in buona sostanza la circolazione di auto e mezzi pubblici e creando notevoli problemi alla viabilità. Dunque una situazione decisamente complicata non di semplice risoluzione e a tal proposito le tute gialle che nei giorni scorsi avevano protestato sottolineando la loro difficile situazione hanno fatto sapere che l'emergenza non è imputabile a loro ma ai mancati pagamenti da parte del comune di Cosenza e alle discariche ormai al collasso. Dunque come detto una situazione insostenibile che rischia di creare problemi non solo per le proteste dei cittadini ma soprattutto per le conseguenze sulla salute.